La nuova stagione del governo del territorio in Toscana parte dalla lotta al consumo di suolo, ora si fa sul serio e la tabella di marcia prevede che entro il 2022 tutti i comuni toscani si siano dotati di un nuovo piano operativo per la tutela del paesaggio. Questo è il traguardo delineato tra le altre cose nel convegno sulle politiche paesaggistiche e urbanistiche organizzato dalla regione toscana in Palazzo Strozi Sacrati a Firenze. Una nuova stagione davvero che dopo l'approvazione della legge regionale 65 del 2014 e del piano di indirizzo territoriale nel 2015 prevede ora una decisa sterzata verso la valorizzazione del paesaggio e il recupero delle aree degradate. Noi siamo orientati in direzione della ristrutturazione e della rigenerazione urbana e i nuovi piani regolatori o piani urbanistici dei comuni non potranno prevedere nuove espansioni edilizie. Questo è un cambiamento importantissimo, siamo l'unica regione che ha fatto un cambiamento così importante. Due sessioni di interventi e tavole rotonde per affrontare anche la questione del delicato equilibrio tra territorio urbano e rurale che caratterizza la Toscana. La novità in vista, sostituire l'adozione delle varianti ai vecchi strumenti urbanistici con l'adozione da parte dei comuni dei nuovi piani strutturali e operativi. Tra le novità più significative, la nascita dei piani strutturali intercomunali. Vale a dire gruppi di comuni che si mettono insieme in aree omogenee per poter fare il piano strutturale assieme. Quindi definire assieme quelle che sono le strategie di sviluppo che riguardano le infrastrutture, che riguardano i servizi, che riguardano le scelte peculiari di un territorio. Ora l'obiettivo della Toscana è instaurare un dialogo permanente con il governo per pianificare lo sviluppo del territorio, perché gestire il paesaggio significa guardare in prospettiva la vita delle sue comunità. La Convenzione Europea del Paesaggio ha dato un'idea molto precisa della definizione di paesaggio. Quindi alle istituzioni spetta il compito di governare una trasformazione continua, così come cambia la vita delle comunità che li abitino. E ora si pensa anche a un geoportale online che mette in rete tutti i dati, le cartografie e le norme che regolano l'utilizzo del territorio in Toscana.